Quando hai un progetto è sempre una cosa molto buona poterlo presentare potersi confrontare con altri progetti poter esporre la tua idea capire se riscuota un interesse capire quali sono i punti forti quali sono i punti deboli queste occasioni ti permettono di fare questo Siamo felici di essere qui per noi era la prima presentazione internazionale al festival di Locadme del mio primo film in sviluppo La Selvaggia il film parla di una storia mai raccontata della nostra grande storia italiana cioè del colonialismo e devo dire che questa esperienza sarà super utile quindi grazie È un progetto tra Germania e Italia e credo che Ticino è il migliore per presentare questo progetto perché è nel medio di questa cultura in Svizzera Ho girato tanto in Ticino da attrice e sarai veramente felice di poter tornare qui da regista Racconto la nostra storia che pensiamo possa essere universale non solo italiana ma da quanto ci è stato detto può essere compresa anche in altre parti d'Europa e essere addirittura ambientate in altre parti d'Europa Alla prossima! Grazie! Racconto la nostra storia ma conoscere le localizzazioni, conoscere i proiecti, conoscere i prodotti. Grazie a tutti.